Sì, sono italiano, Padova, Bellini. Io ero centrocampista, perché c'era un altro Danilo. C'era un Danilo che era un difensore, ma questo aveva 15 anni. Questo Danilo si è fatto male e questa allenatura dice, va da difensore. Alla fine ho preso il posto del difensore e anche il nome. Ho trovato una città bellissima, una squadra organizzata. A livello negativo sono i risultati, perché sulla carta l'Inter era una squadra che può luttare per Scudetto e secondo me Bologna ha fatto per 70 minuti la partita giusta. Dobbiamo fare il più freddo possibile questi 40 punti. L'obiettivo di Bologna deve essere quello primo di fare i 40 punti. Se tu vuoi fare questo prima possibile non devi perdere punti contro Spaule, contro Frosinoni. Questo dipende da noi, non dipende dall'allenatore, perché alla fine lui sa preparare la partita. Lui è uno che è una cosa molto importante, è uno che parla sempre in faccia le cose. Ma chi va in campo siamo noi. Lui è molto preparato. Lui ha tanta voglia, ha tanta... non posso dire... anche fogo. Lui c'è una... questa squadra, secondo me bisogna esblocare. Penso che manca solo quella... una partita giusta, una partita... e spero contro Genova che il nostro attacante senza, così si bloca tutto. Grazie.